La domanda classica che ci fanno tutti gli investitori è ma io prestando i soldi su Suisi, che rischi corro? E ovviamente c'è un rischio abbastanza evidente che è quello che i richiedenti, che hanno ricevuto i soldi in prestito, decidano di non restituirli. Altrettanto ovviamente noi facciamo di tutto perché questo rischio sia il minimo e quindi innanzitutto selezioniamo con molta accuratezza le persone che hanno accesso alla piattaforma come richiedenti. Poi obblighiamo gli investitori a diversificare i loro investimenti su più prestiti. Ci occupiamo noi del recupero crediti senza alcuna spesa per gli investitori e ci siamo inventati uno schema che si chiama garanzia di rendimento che permette agli investitori di ridurre di molto il rischio che corrono.